Bressanone, Libera Università di Bolzano, convegno interdisciplinare dedicato alla relazione tra l'immagine e l'immaginazione. Ospite d'eccezione il noto fotografo e artista Olivero Toscani. Due giorni di lavori su iniziativa della Facoltà di Scienze della Formazione. Si è parlato fondamentalmente del rapporto tra immagine e immaginazione, ovvero di come le immagini possano essere capaci di trattenere al loro interno un intento immaginativo ma altrettanto siano capaci di favorire nell'osservatore in qualche modo una nuova immaginazione. Partiamo sicuramente dalla rappresentazione grafica che è il mio settore disciplinare, l'area culturale principale del settore del convegno, proseguendo con la comunicazione visiva, ovviamente la pedagogia, l'educazione, la didattica ma anche la psicologia. Allora abbiamo avuto matematici, fisici, sociologi, musicologi e ho avuto piacere di vedere nei corridoi tra una sessione e l'altra vedere un ordinario di matematica che chiacchierava con uno psicologo, un neuroscienziato che parlava con un professore di pedagogia e questo credo che sia il successo principale di questa manifestazione. Obiettivo del convegno è stato quello di promuovere il confronto tra esperti di diverse discipline che hanno interesse ad approfondire il rapporto tra immagine e immaginazione dal loro specifico punto di vista. Olivero Toscani ha fornito interessanti stimoli per un approfondimento e confronto sul tema dell'immagine e dell'immaginazione. Immaginare vuol dire immaginare e mettere per immagini, cioè è un verbo, doppio significato. Uno è pensare, immaginare, fantasticare, sognare, immaginare, no? E l'altro è immaginare e mettere per immagine ciò che uno immagina. Immaginare è un'attività alla quale non diamo più tanto tempo, mentre l'immaginare è un'attività molto importante che non si può fare guardando le tecnologie. Sicuramente non si può fare guardando un telefonino e non si può fare guardando un computer. Se vuoi sentire, cioè immaginare il futuro, devi staccarti da tutto ciò che è tecnologia, devi solamente ascoltare te stesso. Al convegno hanno inviato contributi quasi 350 studiosi provenienti da 14 nazioni distribuite sui cinque continenti. Circa 140 sono stati selezionati per presentare le loro ricerche durante la due giorni presso la sede della Facoltà di Scienze della Formazione.